Tenete conto che guardavo alcuni dati e leggevo alcuni analisti che parlavano degli Stati Uniti che hanno anche una situazione interna comunque difficile per certi aspetti. Cioè il tasso di suicidi è molto superiore rispetto a quello dell'Europa, il tasso anche di malattie diagnosticate come depressione eccetera è enorme. Guardavo la piaga del fentanyl quando ero negli Stati Uniti, cioè ci sono circa 100.000 morti di overdose, quindi non consumatori, 100.000 morti di overdose che è una piaga, questa droga che fa praticamente diventare come degli zombie, che è una piaga importante. Leggevo alcuni articoli di persone che abitano a Los Angeles che volevano andarsene proprio per la situazione che c'è da questo punto di vista di insicurezza ma anche di piaga sociale. Quindi è un paese che comunque affronta queste difficoltà importanti, che ha una risposta politica così diversa e che al di là di tutto però vi dico rimane comunque il nostro principale alleato. e quindi al di là di chi vincerà le elezioni noi sappiamo che gli Stati Uniti saranno il nostro principale alleato anche per il futuro e quindi l'importante secondo me per l'Italia è avere un ottimo rapporto come mi sembra che abbiamo con gli Stati Uniti indipendentemente da chi poi vincerà le prossime elezioni.